Il terremoto è un'esperienza bruttissima Provoca una sensazione di paura Voglia di uscire e correre In quel momento ho visto le piante che mi stava crollando addosso Mi sono messa sotto un tavolo, tremava tutto Mi sembrava che mi girava la testa Non facevi tempo a fare niente perché è un attimo Vedendo solo dalla televisione, delle immagini, delle macerie Tocca la speranza che non succeda cose gravi